Un telescopio per osservare la Luna con i suoi crateri, pianeti e stelle. A Torriammare, periferia sud di Bari, arriva la seconda edizione dell'evento Calafetta di Luna, organizzata dalla Proloco del quartiere con cieli stellati di Puglia Associazione Astrofili. Il tutto a due passi dal mare. Nella piccola cala di Torriammare, gli esperti divulgatori dell'associazione hanno guidato il pubblico alla scoperta delle meraviglie del cielo. Ha fatto poi seguito un tour guidato alla scoperta delle principali costellazioni. Questo è un evento che vuole sensibilizzare le persone a guardare oltre, quindi a non fossilizzarsi soltanto a ciò che ci circonda sul nostro pianeta Terra, ma alzare gli occhi al cielo e guardare ciò che è lontano, ma che noi con questi telescopi cerchiamo di avvicinare il più possibile agli occhi delle persone. Con la Proloco di Torriammare, di cui io sono socio, abbiamo voluto realizzare questo evento su questo luogo magnifico che è Calafetta a Torriammare, una terrazza sul mare che si presta benissimo per l'installazione dei nostri telescopi per osservare la luna e gli altri oggetti come Saturno vicino all'acqua del mare. Soprattutto la cosa bella è che questo evento ha fatto registrare il soldat, quindi c'è interesse. C'è tantissimo interesse, infatti purtroppo non riusciamo a far accomodare le tante persone che si stanno avvicinando, per cui sicuramente riproporremo questo evento fra qualche giorno. Che cosa c'è di bello nel guardare le stelle e la luna da Torriammare? Perché guardarle qui? Guardi, lo sfondo è bellissimo, quindi a prescindere, quindi credo che sia la location migliore per poter osservare il cielo stellato.